Musica Liberi i consorsi dei comuni, Lico di Oubea è il primo ma anche l'unico comune del Calatino che ha deliberato l'adesione all'ex provincia di Ragusa. Se la legge regionale 8-2014 non subirà stravolgimenti e se il governo regionale rispetterà le volontà politiche emerse dai vari consigli comunali, questo lembo del Calatino sarà parte integrante della provincia Iblea. Analoga sorte adesso vorrebbero seguire anche i paesi di Mazzarrone e Vizzini. Unico comune rimasto fermo al palo è Caltagirone che insegue il sogno di creare un fantomatico libero consorzio. Il sindaco di Lico di Oubea, Giovanni Verga, spiega le ragioni per cui la comunità di Lico di Oubea abbia scelto di aderire alla provincia di Ragusa. E con delibera del consiglio comunale, così come prevede la legge, per quanto attiene a liberi consorsi, di aderire al libero consorzio di Ragusa. Chiaro che la nostra prima scelta in assoluto era il Calatino, io personalmente ho sempre ritenuto che l'unità del Calatino doveva essere preservata, è una realtà antica, da decenni oramai, però di fronte alla praticamente impossibilità, costata dalla impossibilità e per quanto riguarda il raggiungimento dei requisiti per il numero di 180.000 abitanti e per altre incertezze che comunque si rischiava, non per qualcosa con tutto il rispetto naturalmente, per il comune di Gela, però che vedevamo una realtà abbastanza distante dalla realtà del mio comune. Quindi intanto il consiglio comunale, con grande convinzione, devo dire che i due terzi hanno approvato l'adesione al libero consorzio di Ragusa.